Accolto dal Tar il ricorso, adesso dobbiamo solo vedere quando tornerà in Consiglio Comunale. Come direbbe qualche persona non c'è fretta, invece fretta c'è perché credo che c'è bisogno di dare voce a tanti cittadini che a suo tempo, quindi circa un anno fa, mi hanno dato il consenso portandomi a essere il più votato della mia coalizione e stando fuori dal Consiglio Comunale. Quindi credo che il Tar con il dispositivo che è uscito ieri, quindi solo un giorno dopo del ricorso che abbiamo discusso, il 13, abbia dato ragione non tanto a me ma a tutti quei cittadini che attraverso il loro voto volevano che io andassi alla Massima Assise Cittadina, all'Aula Pucci per rappresentarli. È stata una battaglia legale lunga e anche complicata, forse proprio per questo immagino la soddisfazione sia ancora maggiore da parte sua. Lunga perché i ricorsi erano tre e quindi si sono concentrati essendo un'unica elezione e quindi si sono sovrapposti problemi e problematiche riguardanti le notifiche e quant'altro. Non tanto lunga in confronto al passato, lunghissima in confronto a come dovrebbe essere, perché secondo me è sbagliata proprio la legge, perché per quello che mi riguarda sono state sezioni, sono stati errori materiali. 24 voti nella sezione 50 hanno scritto 2, quindi sono stati 22 voti in meno. Io credo che se avesse avuto potere il seggio centrale, quindi quello che si insedia subito dopo le elezioni, avrebbe dato giustizia subito a quei cittadini. E quindi io, come ho già dichiarato più volte, non credo che ci sia stato dolo, superficialità, molta incompetenza quella sì. Era candidato come NCD? Come entra invece adesso in Consiglio Comunale, considerando che la NCD si sta trasformando? Di fatto già si è trasformata, perché chiaramente la NCD, come già aderito a livello nazionale, è diventata area popolare. Gia si è presentata, si presenterà alle prossime regionali in Italia, sono i governatori pronti sotto questa bandiera. Tra l'altro l'altra settimana a Piazza del Gesù è stata fatta una presentazione dei governatori che faranno capo a quest'area. Il segretario Giolino Alfano li ha presentati e tra l'altro ha dato pure un input molto importante, io credo pure azzardato, dando appuntamenti ai sondaggisti il primo giugno. Perché questa è un'area talmente vasta che praticamente va dal PD alla destra e quindi è un'area che si presenta e vuole crescere, ma soprattutto dare voce e dare risposte a tutte quelle persone che non hanno più rappresentanza e non hanno più voce.